In compagnia di Michele Capano che in questo congresso sappiamo è il nuovo candidato alla tesoreria di Radicali Italiani, sentiamo da lui come stanno bene le cose in particolare e con precisione. Innanzitutto è una candidatura che nasce dalla volontà di Valerio Federico di lasciare dopo tre anni di onorato servizio il ruolo che ha rivestito all'interno di Radicali Italiani, prima per due anni con la segreteria di Rita Bernardini e poi nell'ultimo anno con la segreteria di Riccardo ed è un impegno che quindi si iscrive. Chi state intervistando? A me mi avevano detto un'intervista al tesoriere, sono ancora io il tesoriere, Valerio Federico io, il resto non si sa, si vedrà, io sono il tesoriere. Lui no, lui? Lui? No, io. Grazie a tutti.